ecco è cominciato a contare allora caro innesto come tu come ti dicevo prima sono diventato fabbricante di scale in allumino perché sono diventato perché questo signore che da 40 anni produceva scale ad alcamo per limiti di età aveva 80 anni mi ha ceduto tutta la fabbrichetta sono me ne sono l'ho presa perché sono scale di alta qualità buone robuste e affidabili questo sono io che vado a produrre perché umilmente da commerciante sono andato a imparare un lavoro artigianale questo è il mio figlio che mi aiuta e questo sono io che vado a fare gli showroom presso alcuni negozi dove mi invitano a fare un po da promoter e spesso dico ai clienti salga e prova questa scala dopo parli con negoziante perché dopo aver testato la robustezza effettivamente si può capire la bontà e si giustifica anche il prezzo metti in pausa che andiamo a vedere adesso con questo così